Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera, buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con Domenica Replay, che altro non è che l'approfondimento giornalistico del TG Noi Sport con tutte le notizie e gli avvenimenti della domenica e più in generale del fine settimana. Apriamo dunque con il calcio, non possiamo parlare questa sera di un risultato, non possiamo commentare a livello tecnico quello che ha fatto la Lucchese, semplicemente perché nel campionato di Serie C la Lucchese giocherà ancora di lunedì sera. Domani sera arriva il Milan Futuro, allora noi abbiamo preparato questo servizio di presentazione della gara. Il fitto calendario e lo spezzatino, ormai di moda anche in Serie C, consentono alla Lucchese, anzi potrebbero consentirle, di cancellare subito il bruciante Beffardo 3-3 con la Pianese maturato mercoledì sera, al termine di una partita rocambolesca infarcita da errore e ingenuità. Ogni riferimento all'arbitro e ai difensori della Lucchese non è puramente casuale. Gorgone ha ribadito in conferenza stampa che servirà più attenzione da parte dei suoi per battere il Milan Futuro nel posticipo di lunedì sera e cogliere così la terza vittoria stagionale che alimenterebbe anche una buona classifica che non è mai cosa di sdicevole. La buona notizia è che Costantino è ormai recuperato e quindi resta da capire se il bomber partirà a titolare. La cattiva, anzi le cattive, che fazia ancora out e che fedato non sta proprio benissimo. Se ne vince che contro i giovani rossoneri allenati da Daniele Bonera, almeno inizialmente la Lucchese dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2, ovvero Palmisani in porta, Frison, Sabbione e Gasbarron difesa, Quirini e Antonio esterni in una linea mediana che prevede anche Catanese, Welbeck e Tumbarello, Saporiti e Costantino o lo scalpitante Sasanelli in attacco. Prima volta del Milan Futuro al Porta Elise, sfida ovviamente del tutto inedita. I giovani rossoneri hanno ottenuto nel turno infrasettimanale la loro prima vittoria stagionale, battendo 2-1 la Spal. Un successo meritato e maturato, come rivediamo nella ripresa, grazie alle reti di Ozic e poi il pareggio Spallino con Arena, ma ad una manciata di minuti dalla fine, il successo firmato da Traoré. A proposito del Milan Futuro, ma anche della Juventus Next Generation e dell'Atalanta Under-23, niente colori e pochi spettatori. Lunedì sera in Curva Ovest, il tifo organizzato ha deciso di disertare la partita come protesta contro la presenza delle squadre B in terza serie. Considerato che dal prossimo anno ci saranno anche Inter, Roma e forse Fiorentina, ci chiediamo cosa ne sarà di questa povera Serie C. In attesa di dare una risposta, speriamo positiva a questa domanda, noi ci occupiamo adesso del campionato di Serie D, dove c'è una squadra, il Taucalcio Alto Pascio, che continua ad andare meravigliosamente bene nell'anticipo di sabato. Vediamo com'è andata. Quattro partite e quattro vittorie per il Taucalcio Alto Pascio, più che mai capolista solitario del girone D di Serie D. La squadra di Simone Venturi vince una zero l'anticipo del sabato sera sul campo del pur modesto Zenit Prato, ribadendo che in notturna, vedimola, Meucci e compagni si trovano al loro agio. Decide una rete di gonzi nella ripresa. Seppur alle prese con qualche assenza anche pesante, gli Amaranto non si scompongono e prendono in mano la partita. In realtà il Tau fa un po' di fatica in avanti, col padrone di casa ben raccolti nella loro tre quarti. Da prima svolta del match al trentasettesimo del primo tempo, quando per un brutto fallo su Motti, l'arbitro Costa di Busto Arsizio spelle il difensore locale Gemignani. Nonostante la superiorità numerica, anche nella ripresa non è facile scardinare il bunker predisposto dal tecnico Pratese sette soldi. Ci vuole una punizione di gonzi per battere Brunelli e regalare al Tau altri tre punti e il primato solitario a punteggio pieno. In realtà nel finale lo Zenit ci prova anche con generosità i tentativi di Rosi e Saccenti, ma Cabella fa buona guardia. Domenica prossima al comunale di Alto Pascio calerà il quotato Forlì, in quello che seppur sola la quinta giornata possiamo già considerare a tutti gli effetti un autentico big match. Ci avevamo visto bene perché quando abbiamo confezionato questo servizio il Forlì non aveva ancora giocato, l'ho fatto oggi e ha vinto in modo roboante. Vediamo i risultati della quarta giornata di andata del campionato di serie di Girone D. Come sapete quest'anno sono due i gironi che dobbiamo seguire. Questi risultati Forlì di cui parlavamo è secondo a quota 10. Quindi domenica prossima davvero un big match. Seguono il Molese e Cittadella 9, Sasso Marconi, Pistoiese e Piacenza 7, Ravenna, Lentigione e Tutto Cuoio 6, Prato 5, Fiorenzuola e San Marino 4, United, Riccione e Corticella 3, Samorese 2, Zenit 1. Chiude il progresso con 0 punti. Abbiamo anche i risultati dell'altro girone. Il girone dove sono impegnate due squadre della provincia, il Givivorgo e il Seravezza. Entrambe hanno pareggiato oggi a reti bianche 0-0. Il Givivorgo aveva anche un avversario molto forte, la capolista Siena. Vediamo nel dettaglio dunque il quadro della giornata. Figline, Follonica, Gavorrano 1-1, Flaminia, Civita, Castellana, Foligno 1-3, Givivorgo-Siena 0-0. È stata una partita un po' monotona nel primo tempo. Nella ripresa sia Givivorgo che Siena sono andate vicino al gol, entrambi colpendo una traversa. Livorno-Grosseto 5-2. Qui pensate che ad un certo punto il Grosseto vinceva 2-0 al picchi, poi Livorno si è scatenato e ne ha segnati 5. Orvietana-Montevarchi 0-1, Poggi-Vonsi-Ostiamare 1-2, San Giovannese-Sporting-Trestina 1-1, Seravezza-Sandonato-Tavarnele 0-0. Il San Donato-Tavarnele, privo dell'allenatore Bonuccelli, squalificato per sei giornate, dunque ha resistito agli attacchi del Seravezza. Terranuova-Traiana-Fezzanese 2-0. In questo girone non ci sono più squadre a punteggio pieno, ma ce ne sono due. E che squadre, dico, almeno a livello di Blasone. Siena-Livorno al comando con 10 punti, poi Seravezza a 8, Foligno-Poggi-Bonsi e Givivorgo 7, Follonica-Gavorrano, Stiamare, Figline e Orvietana 6, Terranuova-Traiana 5, Grosseto-Aquila-Montevarchi e San Giovannese 4, Sporting-Trestina e Flaminia-Civita-Castellana 2, San Donato-Tavarnele e Fezzanese chiudono con un punto. Scendiamo in eccellenza per il Viareggio. Oggi c'era la trasferta di Certaldo. Allora vediamo come è andata per le Zebre Bianconere nel servizio confezionato per noi da Roilepore. Il Viareggio si porta a casa una vittoria importante dal campo di Certaldo. 2-0 risultato finale con Reti nei minuti finali nel primo tempo di Bibai nella ripresa, nel recupero di Mattia Santini. Il Viareggio che si presenta in campo dal primo minuto con Chichiarelli al posto di Belluomini subentrato nella ripresa. Si parte con il tredicesimo Bianchi che di piatto mette alto suo assist di Brega. al 34esimo la risposta di Mearini che gira però mette fuori dal limite. Arriva come detto il gol del meritato vantaggio di Bibai per l'1-0 che sblocca il risultato. Si va al riposo, alla ripresa. Subito un Viareggio testa bassa che con Brega al quarto e con Marinai al quinto va vicino al raddoppio. Poi c'è il gol del possibile momentaneo pareggio di Zefi al nono ma viene annullato per fuori gioco da parte dei giocatori del Certaldo. Al 26esimo c'è la formazione di casa che viene praticamente a trovarsi una punizione ma non la sfrutta Mearini. Al 28esimo Zefi calcia la punizione ma la rispinta è della barriera. Ancora Zefi sull'esterno del tiro Paracarpita, giocatore che dà sempre estrema sicurezza alla retroguardia a Viareggio. Al 39esimo fallo di mano del Certaldo in area con Bibai ma l'arbitro inverte questa decisione tra la sorpresa del Viareggio. Al 40esimo alto di testa di Cenni da dentro l'aria. Poi come detto Matteo Santini subentrato nella ripresa realizza il gol del 2-0 con un assist al bacio di Brega. E ora domenica al Marco Polo Sport Center c'è il derby con il Camaiore. Quindi come ci dice Roel Eppure da domenica prossima comincia anche il Valzer dei derby. Ce ne saranno diversi in questo campionato. Al comunale di Certaldo a fine partita Roel Eppure ha intercettato l'allenatore Stefano Santini, poi il difensore Frocu e l'autore del raddoppio Matteo Santini. Vediamo questa intervista. Stefano Santini, tre punti arci meritati in una partita dove Viareggio dall'inizio fino alla fine l'ha dominata. C'era stata la paura di quel gol poi annullato per una posizione di fuorigioco. Però insomma è sceso in campo con la testa giusta oggi. Sì, abbiamo fatto una bella partita. Peccato nel primo tempo, troppe palle al limite dell'aria, abbiamo sbagliato l'ultima giocata. Ci siamo arrivati bene e questo l'abbiamo fatto tutta la partita. Poi nel secondo tempo e nella fine del primo tempo l'abbiamo fatto meglio. Abbiamo giocato con più tranquillità e più serenità le palle al limite dell'aria. Infatti abbiamo trovato il gol. Siamo contenti perché poi comunque stanno tutti lavorando bene. Anche oggi abbiamo chiuso con tanti giovani in campo che stanno crescendo. e questa è la strada che dobbiamo proseguire con tanta umiltà e tanta voglia di lavorare. Luis Froco, insieme al tuo amico Bertelli dalla parte opposta siete due stantuffi su queste corsie esterne. Complimenti a te e a tutta la squadra per questa vittoria. Grazie mille. Era importante fare bene, oltre tutto, oltre il risultato, la vittoria, comunque sia, si sta dando in pronta giusta la partita. L'obiettivo di oggi era comunque fare bene, far vedere che ci siamo, che si lotta su tutto e non si molla di un centimetro. Matteo Santini, un grande gol proprio in cui l'angolino l'hai cercato. Grande, dobbiamo dire, anche Cristian che ti ha dato un pallone al bacio, però insomma vi trovate alla perfezione. Te sei entrato con grande grinta e determinazione come tutti gli altri dalla panchina perché volevate questa vittoria a tutti i costi. Sì, sono entrato convinto perché comunque è una partita che sentivo, perché non è stato un avvio di campionato facile per me, perché per vari motivi, diciamo che sono stati degli avvenimenti che mi hanno un po' condizionato e adesso sono entrato con la forza di riscatto. Bene il Viareggio e complessivamente bene le squadre della nostra provincia. Sono ben quattro che partecipano a questo campionato di eccellenza. Allora vediamo nel dettaglio i risultati di questa quarta di andata con il Camaiore che pareggia 3-3 in casa con il Cenaia, buttando via probabilmente due punti perché il Camaiore ad un certo punto vinceva per 3-1. Castelnuovo-Peregnano 1-1 con i gialloblu che recuperano lo svantaggio iniziale. Certaldo e Viareggio abbiamo visto 0-2, Cuoio Pelli-Ponte Bugianese 0-0, Fucecchio-Montesperto di 1-1, Pro Livorno-Sporting-Cecina, dunque si ferma la capolista sul pareggio interno 1-1, Real Forte che vince battendo il Mobiliari-Ponsacco 1-0 e bene anche la Massese che va a vincere 2-0 sul campo della Sestese. Questa è la classifica, Pro Livorno 10, Real Forte-Querceta 9, Camaiore-Viareggio-Castelnuovo 8, Cenaia-Sestese 7, Massese 6, Fratres-Perignano 5, Certaldo-Sporting-Cecina 4, Fucecchio 3, Mobiliari-Ponsacco, Ponte Bugianese-Montesperto di 2, Cuoio Pelli 1-1. Chiudiamo questa prima parte di domenica replay dando risultati anche del campionato di promozione. Li vediamo, Cubino-Pietra-Santa 2-2, Lampo-Meridio-Nurbino-Taccola 1-1, Larcianese-Lunigiana-Pontremolese 3-0, Marginone-2000-Real-Ceretese 0-1, San Giuliano-Intercomunale-Monsummano 1-0, San Marco-Avenza-Firenze-Ovest 0-1, Valdinievo-Le-Montecatini-Forte dei Marmi 2015 2-4, bella vittoria esterna della squadra Forte-Marmina, e poi Viaccia-Casalguidi 0-5. Anche qui dopo quattro giornate non ci sono più squadre a punteggio pieno, il Cubino comunque al comando con 10 punti, seguono San Giuliano 9, Larcianese-Lampo-Meridio-Real-Ceretese 7, Casalguidi-San Marco-Avenza-Firenze-Ovest 6, poi troviamo anche le tre squadre della provincia, il Pietrasanta, il Marginone-2000-5 punti insieme all'Urbino-Taccola, il Forte dei Marmi 2015 a quota 4, Valdinievo-Le-Montecatini 3, Monsummano e Viaccia 1-1 e poi Lunigiana che è partito penalizzato di 10 punti e che comunque, pensate, è già risalito a meno 1, quindi se fosse partito da 0 sarebbe al secondo posto della classifica. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la prima parte di Domenica Replay, ripartiremo con il calcio, con lo spazio dedicato alla Carrarese e al campionato di Serie B, poi ciclismo, hockey, motori, basket e tennis per completare questa puntata di Domenica Replay. Eccoci tornati, seconda parte di Domenica Replay, abbiamo parlato tanto di calcio nella prima parte dalla Lucchese al campionato di Serie D fino all'eccellenza con il Viareggio, continuiamo a parlare di calcio e lo spazio riservato alle vicende della Carrarese che, come sapete, quest'anno gioca nel campionato di Serie B. Un avvio difficile per gli apuani che erano impegnati all'Arena Garibaldi di Pisa dove stanno giocando al momento le loro gare interne contro la Reggiana. Vediamo com'è andata in questo servizio. Dopo la vittoria contro il Sud di Tirol e la sconfitta contro il Sassuolo, la Carrarese cerca di sfruttare al meglio il fattore campo offerto dall'Arena Garibaldi di Pisa. I giallazzurri affrontano un avversario insidioso come la Reggiana, nota per la sua imprevedibilità offensiva. Il match si accende già al quarto minuto con un calcio di punizione battuto magistralmente da Cicconi. Successivamente il match vive una lunga fase di equilibrio con entrambe le squadre che non riescono a costruire azioni offensive particolarmente pericolose. Al 35esimo la Reggiana prova a rompere lo stallo con una conclusione di Stulac al limite dell'area di rigore. Il tiro a giro sembra insidioso ma si spegne fuori con Bleve che osserva attento la palla a uscire alla sua sinistra. La risposta della Carrarese non tarda ad arrivare. Al 38esimo Bua si lancia in progressione sulla fascia destra assaltando agilmente Stulac e mettendo un cross perfetto in mezzo all'area. Cicconi ben posizionato colpisce di testa ma non riesce a inquadrare la porta. Il secondo tempo si apre subito con una grande occasione per la Reggiana al 49esimo. Portanova spara un missile dal limite dell'area ma Bleve si immola e salva la Carrarese concedendo soltanto un calcio d'angolo. La partita si accende le minuti finali al 78esimo. Ocoglio della Reggiana tenta una spettacolare conclusione al volo dopo aver ricevuto da Lucchesi ma ancora una volta Bleve risponde prontamente mantenendo il risultato in equilibrio. L'occasione più clamorosa però arriva al 94esimo quando Cerri colpisce di testa su un perfetto cross di Zanon ma la sua conclusione centrale è facile preda di Barbie. Dopo 5 minuti di recupero la partita termina sullo 0-0 un punto che consente alla Carrarese di muovere la classifica portandosi a quota 4 punti in campionato. Non solo calcio in domenica replay come sapete ma anche gli altri sport. Cominciamo con il ciclismo perché c'era grande attesa per la 53esima edizione del trofeo Città di Lucca ricordando Giacomo Puccini per Elite da Under 23. La vittoria come vediamo in questa foto è andata al corridore della Zalf Fior squadrone ormai da tanti anni Andrea Guerra che ha battuto Emanuele Ansaloni della Tech Nipes in Emilia-Romagna e Diego Casagrande del Veloclub Mendrisio Immo Program 13esimo posto per il lucchese Edoardo Cipollini in gara con la maglia del team Colpac Ballan ecco su questo trofeo Città di Lucca di ciclismo torneremo nei prossimi giorni con un ampio servizio all'interno del nostro TG Sport. Passiamo all'Hockey su pista perché in attesa dell'inizio dei campionati ha preso il via la Coppa Italia quella di Serie A2 con diversi derby che erano subito in programma. Carato il Sipario sui mondiali di Novara è iniziata la stagione ufficiale per la Serie A2 di Hockey su pista con l'inizio delle gare di Coppa Italia nel girone C sono state inserite le formazioni del nostro comprensorio il calendario ha subito presentato un derby molto interessante quello tra la più esperta rotellistica camaiore e la Pumas a Viareggio hanno vinto i ragazzi di Alberto Orlandi per 4 a 2 ma la Pumas è rimasta in partita fino alla fine. Mattatore di serata alla Pardini Sport Center è stato Matteo Pardini autore di una tripletta a cui si è aggiunta la rete dell'esperto Davide Motaran uno dei volti nuovi della rotellistica. Per la Pumas i gol sono stati siglati da Carrieri autori di una doppietta. Nell'altra partita alla palestra Dorando Pietri la matricola SPV Viareggio ha superato il Sarzan per 5 a 3 con le segnature di Del Medico Tomei e una doppietta di Poletti per gli ospiti Perroni e Pistelli autore di due reti malgrado il punteggio è stata una partita equilibrata. Passiamo ai motori. Prima di darvi la notizia bella di giornata che vi abbiamo già segnalato nelle edizioni precedenti del TG Sport ricordiamo che nel mondo dell'endurance è andata male per i nostri due rappresentanti per Riccardo Pera che era impegnato sulla pista mica del Mugello a causa dell'ingresso di una safety car che in pratica con qualche incomprensione con il suo box ha fatto in modo che Pera in pratica venisse penalizzato in modo decisivo perdendo addirittura un giro e da lì alla fine l'ottavo posto che certamente non dà ossigeno, non conforta Pera con l'equipaggio del team Golf Racing era in lotta per il campionato europeo e adesso tutto si è complicato. Non è andata bene, in questo caso sul circuito Catalunia di Barcellona neppure al giovanissimo Matteo Luvisi impegnato in quella che è l'endurance campionato europeo endurance a livello giovanile in questo caso purtroppo una foratura quando Matteo Luvisi era al comando della corsa insieme al suo compagno Federico Arrifai gli ha impedito di vincere gara 2 cosa che invece aveva fatto sabato in gara 1 e questo anche per Luvisi complica i piani in vista poi dell'ultima prova che sarà a Monza le note invece liete del motorismo locale riguardano Filippo Bianchi c'era oggi l'ultima prova, lo vedete qui esultare ultima prova del trofeo Aprilia 660 edizione 2024 Filippo Bianchi doveva difendere 4 punti di vantaggio su Mattia Sorrenti lo ha fatto in modo splendido adesso vedo che già ci fanno vedere ma poi dovremo sentire anche in questi brevi 30 secondi Filippo Bianchi che commenterà quanto è successo è stato un trofeo Aprilia che Filippo possiamo dire ha dominato dall'inizio alla fine di questo trofeo Aprilia ha avuto un pizzico di sfortuna forse qualche volta ha commesso anche qualche errore che in pratica gli ha impedito di chiudere prima il conto la dovremmo sentire in base alle immagini che già avevamo visto questi 30 secondi in cui Filippo Bianchi commenta questo bel successo che crediamo potrebbe dargli prospettive interessanti anche in vista del 2025 Allora andiamo avanti magari vi riproporremo poi questo commento di Filippo Bianchi e parliamo di basket parliamo di basket femminile ultimo test precampionato positivo per Lemura Spring Finisce 51 a 40 l'amichevole con la pallacanestro femminile Prato ottima e ultima occasione per le spring di coach Emiliano Ferretti di provare meccanismi difensivi e schemi di attacco a meno di una settimana dall'inizio del campionato di Serie B le Biancorosse hanno superato in scioltezza le laniere ripresentando sul parquet dopo l'infortunio muscolare una buona vira cercasca al pala tagliate si è assistita ad una partita dalle mille sfaccettature con parziali e controparziali globalmente valutando il test match nel suo complesso the spring portano a casa una convincente vittoria grazie al break nel secondo quarto contro una squadra di buon livello protagonista dell'ultima fase dello scorso campionato e finalista della prossima Coppa Toscana tra l'altro le due squadre si affronteranno in semifinale a livello individuale oltre al buon rientro della cercasca spiccano le prove di Chiara Tessaro 13 punti ed Elisa Maffei 12 a referto ricordiamo che sabato prossimo ore 18.45 inizierà il campionato 24-25 dove la squadra della DS Ima Gentile e della presidente Rachele Sette Soldi intende confermarsi dopo la semifinale playoff dello scorso anno perduta con la Niko Basket le premesse per fare bene ci sono tutte e adesso toccherà il match contro il Golfo Piombino cominciare a capire di che pasta è fatta il nuovo Lemura Spring di coach Ferretti è già campionato invece dovremmo vedere anche delle immagini della partita giocata poco fa al pala tagliate è già campionato nella Serie B interregionale maschile per il Basketball Club Lucchia in divisa bianca che questa sera ha battuto nettamente 91 a 68 la formazione fiorentina dell'Olimpia legnaia un avvio un po' incerto almeno nel primo quarto per gli uomini di Coccio Livieri primo quarto che si è chiuso infatti 21 a 19 per Lucca poi nel secondo minitempo la squadra lucchese ha provato ad accelerare a operare il break ma c'è solo parzialmente riuscita perché si è andati all'intervallo lungo tra l'altro di fronte anche ad un buon pubblico anche caloroso si è andati all'intervallo lungo col tabellone che recitava Lucca 41 Olimpia legnaia 36 il break vero e proprio lo straccio decisivo Varsanti e compagni l'hanno dato nel terzo quarto quando addirittura hanno chiuso 74 a 47 dunque con un vantaggio di 27 punti il resto poi della partita è stata ordinaria amministrazione la partita si è chiusa sul punteggio di 91 a 68 per il Basketball Club Lucca potremmo dire buona la prima prova anche piuttosto convincente considerando che nel Basketball Club Lucca c'è ancora fuori Vignali uno dei due attisti stagionali insieme all'argentino Dubois prossimo appuntamento dunque una sorta di prova del 9 sabato prossimo sabato 5 ottobre sul campo del Basket Cecina e chiudiamo con il tennis anche qui ci sono notizie altalenanti intanto c'è l'eliminazione abbastanza clamorosa di Lorenzo Musetti al China Open il 22enne tenista di Carrara si è infatti arreso in 2-7 6-2-6-4 al modesto cinese permetteteci di dirlo Bu Yun Chao Eketè che si è qualificato per i quarti di finale peccato perché Musetti si è rappresentato nel rango di testa di serie numero 6 del torneo con l'ambizione di andare decisamente più avanti adesso le speranze del tennis nostrano almeno al China Open sono affidate nel torneo femminile a Jasmine Paolini che lunedì nei sedicesimi se la vedrà con la polacca Magda Linette nel tennis giovanile invece c'è una bella notizia la vittoria di Tommaso Francesconi del circolo Levere San Donato di Lucca che ha conquistato a Livorno il titolo di campione toscano under 13 il giovane tenista lucchese classe 2012 che vediamo in questa foto ha battuto in finale in 2-7 6-2-7-5 il livornese Gerardo Simonetti non ha pagato poi Tommaso in coppia con il senese Alessandro Tolomeo ha vinto anche il torneo di doppio e dunque bravo a Tommaso Francesconi bene con questo è davvero tutto per questa edizione di Domenica Sport di questa domenica sera naturalmente Domenica Sport l'approfondimento domenicale del TG9 Sport vi do appuntamento a domenica prossima sempre alle 21.45 vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento per averci seguito Grazie a tutti.